Benvenuti a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi sto facendo questo video perché me l'hanno richiesto su Instagram, il mai. Appena arriveranno a ci mangiare iscritti voglio farvi uno speciale, per me uno speciale è tutto. Questo video è stato richiesto da Martino da Juventino, vabbè, segui davanti se la troverete, sempre se la troverete, sempre, perché non mi ricordo in tanto in tanto, vabbè, poi vi farò sapere. 5 cose che amo La prima è la scuola La seconda è nuotare Quindi fare piscina Terza, viaggiare Quarta Dormire Però il pomeriggio non dormo mai L'ultima cosa Andare al mare Beh, ormai sappiamo che piove, 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 piove Ieri ho fatto un vlog, però che non l'ho caricato Eravamo sotto la pioggia Il telefono rischiava di bagnarsi tutto Guarda Guarda Soprattutto se il video dura così poco Guarda, guarda, guarda Però queste sono le mie 5 cose che amo Ehm Sono su musicali Come Jenny Peppe Però se vede la fotografia Io Con vestitino Siccome non sono riuscita da passare Vedermi la faccia E si è vista vestitino così E' una pinciccata una Vabbè, mi troverete Ho fatto già Due, tre musicali La musicali Buono, mi ricordo Due, tre Quattro nove Mi troverete su Instagram Jenny Peppe Su Instagram Faccio dei giochetti Vabbè, voi questi vedete Con un altro video Tutte queste cose Ciao E al prossimo Vi diamo